Il progetto Lombit, o hub energetico Lombardo, è un progetto che è stato finanziato all'interno della collab da Regione Lombardia, è un progetto fortemente innovativo che ha come target lo sviluppo di un sistema efficiente di riscaldamento e raffrescamento. Il progetto prevede un approccio verticalmente integrato che parte dalla produzione alla distribuzione del calore attraverso una rete di teleriscaldamento di quarta generazione sviluppata da 2A Calore Servizi, da dei modelli predittivi di utilizzo del calore in modo sicuramente efficiente che viene sviluppata dal partner Enersem e poi da dei prototipi di pompe di calore elettriche e a gas che sono sviluppati da Ariston Termo che rappresentano assolutamente un'innovazione nel settore delle pompe di calore. Questo è un progetto che non si limita e non va circoscritto ovviamente al territorio Lombardo ma attraverso uno scenario nazionale sviluppato da Fondazione del Politecnico può essere, può avere ricadute e replicabilità all'interno dell'intero territorio nazionale. Ha un carattere molto importante di ricadute sul territorio, ricordiamo che questo progetto recupera del calore di scarto disponibile nel territorio e quindi ne massimizza l'utilizzo a vantaggio quindi di un risparmio in termini di CO2. È un progetto che ha, che prevede quindi circa il recupero di circa 54 gigawattora di calore che equivale al fabbisogno di circa 6.000 famiglie e grazie a questo recupero si stimano un risparmio di circa 11.000 tonnellate di CO2 che equivalgono, giusto per darvi un'idea, a 560.000 alberi piantumati. Se dovessimo definire alcune parole chiave di questo progetto sicuramente la prima sarebbe decarbonizzazione per l'impatto importante che questo progetto ha sul territorio grazie al recupero di cascami termici, ma non solo, abbiamo anche economia circolare, abbiamo anche efficienza energetica, abbiamo anche impatto sui cambiamenti climatici grazie appunto al footprint di CO2 che riusciamo ad ottenere riducendola grazie a questo recupero di calore di scarto.